l'abiti ha un'anima sciamanica cosa vuol dire vuol dire che non facciamo gli sciamani vuol dire che non torniamo indietro ma vuol dire che recuperiamo dalla tradizione sciamanica dei doni una è quella della visione sapete quante importanza danno le tradizioni originarie alla visione sapete anche che c'è la vision quest immagino proprio no l'iniziando va sulla montagna in digiuno senza bere senza mangiare sta chiedendo al grande spirito di ricevere la visione e la visione poi viene vissuta in comunità e acquista suo potere per cui se noi siamo così presi dalla dimensione razionale del pensiero del comprendere chiudiamo l'accesso alla visione la visione è al però poi dopo magari troviamo incappiamo in una formazione in qualche cosa che c'è la visualizzazione l'immaginazione creativa è tutto mente l'immaginazione e me è qua per quanto possa essere creativa perché la mente può essere molto creativa la mente razionale può essere molto creativa ma è sempre mente razionale la visione mi trovo davanti a una porta quel mi trovo davanti a una porta è una visione e capite è terribilmente scientifico che cosa c'è di più scientifico di così sono davanti a una visione a una porta c'è tutto il mio essere ha avuto l'insai l'epifania la porta è verificabile non misurabile mai falsificabile cioè quell'essere davanti a una porta se io lo imparo a riconoscere è ciò che mi guida a proposito di lasciare andare il condizionamento le paure trovo un rifugio in un'altra dimensione che quella lì solo che la visione non posso decidere di averla cioè non posso immaginarmi adesso mi immagino di essere avanti a una porta di vedere cosa succede non è così faccio il vuoto in qualche modo oppure succedono delle cose e a un certo punto in queste cose che succedono paff si schiude la visione e allora io ho visto e quando io ho visto non posso più comportarmi come se non avessi visto un po paura un mi dico ma chi me lo fa fare di nuovo però non posso fare a meno di avere visto o meglio c'è chi anche fa meno di avere visto resiste ma questo è uno dei modi di stare male non posso che passare attraverso quella porta è una guida inequivocabile quindi un altro degli aspetti sarà imparare a accedere a quella dimensione oltre la mente sovra razionale delle visioni il se è un complex adaptive system un sistema relativi complesso anche i computer sono sistemi relativi complessi ovviamente su un livello di minore complessità per questo che ci sono delle analogie perché c'è una rete auto organizzativa in grado di imparare e di evolvere e quindi noi ci comportiamo come se l'essere umano fosse in grado di imparare di evolvere di suo il se è in grado di andare verso l'ordine creiamo le condizioni perché avvenga